buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 31 luglio 2023 cominciamo insieme la giornata sfogliando come sempre l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ebbene oggi è un grande un grandissimo santo sant'ignazio di loiola inigo lobes de loiola guerriero guerriero coraggioso ebbe una gamba spezzata pensate durante l'assedio di pamplona ma quello fu un segno probabilmente della providenza perché durante la convaliscenza ignazio si avvicinò a cristo aveva del tempo da passare aveva chiesto dei libri la sua casa la sua famiglia pur nobile ne aveva solo due in quel momento una vita di gesù e una vita dei santi ebbene ignazio si immerse in questi due libri ed ebbe una conversione totale da allora si avvicinò a cristo passando il tempo leggendo appunto quello che gesù aveva compiuto e qui incominciò l'avventura di un grande santo che visse nella mortificazione nella preghiera ma fu un esempio per molti ebbe tante traversie durante la sua vita dalla spagna dove nacque era il rampollo di una nobile famiglia passò a parigi poi a roma ebbene la sua più grande opera fu la fondazione della compagnia di gesù ma chi ha avuto modo di così scorrere tra i canali televisivi ieri sera forse si è fermato in un canale che ha trasmesso un film proprio sulla vita di sant' ignazio di loiola ed è stato un film molto interessante perché assondato nella psicologia di questo santo ed ora passiamo noi alle previsioni del tempo tempo per lo più stabile e in tutta la regione marche ad eccezione di isolati rovesci in appennino le temperature sono stazionarie con un caldo moderato possiamo dire tra i 20 e i 28 gradi questa mattina c'è una leggera brezza che sta così spazzando il litorale venti ispirano sulle coste da est nord est così come nell'entroterra e il mare piuttosto che vedere le previsioni andiamo a vederlo direttamente passando nella spiaggia di animalido dove troviamo giovanni dal lago buongiorno giovanni buongiorno buongiorno a tutti allora com'è il mare stamattina allora il mare è calmo è molto bello c'è un clima diciamo quasi perfetto perché comunque una temperatura giusta che rispetto alle settimane forse era molto affuoso invece oggi è abbastanza fresco diciamo come avete detto voi arriveremo intorno ai 30 gradi quindi una giornata perfetta benissimo senti noi abbiamo fatto degli scursus un po su tutto il litorale fanese e in questi mesi estivi ma animalido è una spiaggia particolare è una spiaggia dove si è permesso stazionare persone che amano gli animali ebbene come sta andando alla stagione ad animalido e diciamo che sia una spiaggia proprio strutturata per accettare persone con animali e la stagione sta andando abbastanza bene rispetto all'inizio che era partita delle perturbazioni forti adesso siamo siamo partiti diciamo siamo partiti e speriamo che duri il più possibile senti giovanni dice un attimo come attrezzata la tua spiaggia per ospitare i cani soprattutto e la nostra è una spiaggia diciamo come tutte le altre con ombrelloni lettini sdraie tutto quello che serve diciamo per gli umani ma anche tutte quelle cose che sono indispensabili per ospitare famiglie e turisti con animali al seguito quindi abbiamo delle dozzette per sciacquarli delle ciotoline per dargli da bere dei gancettini per legarli sotto l'ombrellone delle poltrone per stare nell'acqua con loro e tante altre cose che magari poi vi farò vedere i prossimi giorni a questo punto a benissimo siamo veramente curiosi anche perché questo è una ricchezza per la promozione turistica di fano dato che ha la possibilità a coloro che non vogliono abbandonare i propri amici fedeli a casa oppure metterli in pensione portarli con sé in vacanza e stare con loro anche sulla spiaggia benissimo giovanni noi ci risentiremo anche domani ci illustrerai un po la tua spiaggia e sarà un piacere iniziare la giornata con te grazie grazie buona giornata a tutti e con questo ci salutiamo grazie giovanni e ora apriamo i giornali sulla pagina del corriere adriatico questa mattina dove vediamo un articolo interessantissimo che riguarda la politica perché è un'anteprima si tratta di l'esito di un sondaggio che una società specializzata ha compiuto nell'elettorato fanese e vi dico subito il titolo primarie tre avanti partita aperta tre avanti sarebbero i candidati sindaci c'è gradimento per seri e la giunta e bene in questi giorni si era detto spesso che ispirava un vento da centrodestra ma secondo questo sondaggio che è stato fatto da una società una società demoscopica la sigma consulting tra il primo e il 5 luglio scorsi questa è stata la finestra del sondaggio ebbene la maggioranza dei fanesi hanno gradito l'operato della giunta seri e quindi sono disposti a rinnovarla primarie tre avanti partita aperta c'è gradimento per serie la giunta corsa per il sindaco ecco i dati dell'indagine elettorale svolta da sigma per il comitato delle mille firme il dato politico più rilevante si dice in questo articolo che è firmato da lorenzo furlani il dato politico più rilevante è che se il pre le pre elezioni per scegliere il candidato a sindaco dello schieramento fossero indette ora pensate chi è in pole position ebbene forse qualcuno non se l'aspetta ma in realtà è uno che è un candidato che ha subito iniziato la campagna elettorale dando così la mano agli elettori in testa è infatti samuele mascarin ma vediamo subito con questa tabella qual è il la classifica dei candidati allora in testa samuele mascarin della lista civica in comune segue cristian fanesi del partito democratico il vice sindaco attuale assessore all'urbanistica poi barbara brunori barbara brunori e assessore alla viabilità e ai lavori pubblici e poi etienne lucarelli l'assessore al turismo e al commercio e poi vediamo tra l'opposizione e marta ruggeri con nove punti rispetto a 26 che ha assunto samuele mascarin e poi una new entry francesca puglisi francesca puglisi è una esponente del partito democratico che si è dissociata dopo la mancata rielezione al nelle elezioni politiche ebbene francesca puglisi adesso qui non si dice da che parte si schiera comunque anche lei ha un certo gradimento non si esprime però il 39 per cento degli intervistati e beh è una percentuale importante tra i cento una sessantina di persone si sono espresse hanno dato la loro preferenza una quarantina invece è ancora forse indecisa oppure non ha voluto esprimersi ed ora diamo un'occhiata ancora a questo articolo con qualche notizia in più il sondaggio pubblicato in esclusiva dal corriere adriatico ha tastato un campione rappresentativo di tutto l'elettorato innanzitutto è emerso con un errore statico stimato del 4,2 per cento che il 64 per cento dei fanesi dà un giudizio complessivamente positivo sul sindaco per il 56 la sua azione è abbastanza efficace e per l'otto è molto efficace per l'otto per cento ovviamente la sua giunta si colloca a ruota il giudizio è favorevole per il 63 per cento degli elettori per il 59 per cento l'amministrazione è abbastanza efficace per il 4 per cento è molto efficace beh comunque è una percentuale molto bassa quello che dà un giudizio completamente positivo perché ovviamente quando uno amministra una città complessa come quella di fano ovviamente delle carenze sempre ci possono possono emergere giriamo la pagina e diamo un'occhiata al secondo titolo di apertura si parla di poderino poderino è un quartiere e quartiere diciamo così benestante della immediata periferia della città di fano ma ora sembra soggetto a problemi per quanto riguarda l'ordine pubblico gli aveva evidenziati l'esponente del esponente consigliare della lega che aveva denunciato problemi di ordine pubblico sul quartiere del poderino era luigi scopelliti e ora abbiamo un altro contributo per quanto riguarda la situazione del poderino ed è un insegnante un insegnante educatore residente nel poderino mauro del bene ebbene mauro del bene ha osservato a lungo la situazione del poderino ha visto come diversi gruppi di giovani si dislocano da una parte e dall'altra ovviamente non tutti sono gruppi trasgressivi anzi ci sono coloro che osservano tranquillamente le regole del vivere civile ma ci sono altri che si abbandonano a degli eccessi ultimamente per esempio hanno fatto un'escursione all'interno della sede dell'associazione vivere il poderino razziando un po qualche bottiglia che l'associazione teneva per allegrare le feste del quartiere e poi abbandonandosi a degli eccessi lasciando dei rifiuti in piazza unità d'italia ma qual è il metodo per intervenire secondo mauro del bene non è certo la repressione non è certo fare le paternali non è certo intervenire con durezza ma occorre un dialogo occorre un dialogo di tutta la gente del quartiere un dialogo con rispetto un dialogo che non vuole così intervenire in maniera repressiva ma che vuole installare un colloquio affinché questi giovani possono integrarsi nel tessuto sociale di un quartiere che nonostante tutto ha delle buone opportunità ebbene la carenza dei parcheggi in modo particolare a sud del fiume metauro sta creando non pochi problemi era stato evidenziato proprio qualche giorno fa quando tutta l'area centrale di torrette era stata sgomberata dalle macchine perché c'era la manifestazione dello street food e questo aveva fatto sì che insomma molte auto avessero dovuto traslocare al di là della nazionale verso la chiesa verso la chiesa dell'entroterra e invece ieri ultima domenica di luglio pensate quanta gente era al mare per godere questa fine questo fine mese che poi c'è il cambio dei turisti ebbene hanno parcheggiato su via miraglio capellini in senso senso vietato e allora lì una raffica di multe veramente una strage di multe raffica di multe ai bagnanti sale la protesta e la protesta viene fatta dalla confartigianato la quale tutela i diritti dei concessionari di spiaggia i quali dicono così non si fa certo il turismo se non ci sono aree di parcheggio dove devono parcheggiare i turisti che vengono magari dall'entroterra che vengono dall'umbria certo non possono venire in bicicletta non possono venire a piedi hanno bisogno di spazio ieri lo spazio non c'era hanno parcheggiato su via miraglio capellini e hanno dovuto poi pagare dovranno pagare poi delle multe non certo di poco conto ecco perché sale la protesta alla rocca un evento dedicato a massimo troisi e pino daniele alle 21 e 15 musica e parole fondatore sulla memoria si tratta della rassegna comizi d'amore che sta allestendo degli spettacoli molto interessanti alla rocca che in questi ultimi giorni è stata occupata dal festival jazz ora riprende la sua programmazione estiva con tanti spettacoli molto vari e molto importanti molto attraenti quindi questa sera si ricorderà massimo troisi e pino daniele due amici napoletani che hanno dato molto alla cultura al cinema alla musica appunto della nostra nazione passiamo a mondolfo passiamo a mondolfo e c'è una reprimenda per quanto riguarda i maleducati bidoncini lasciati in strada scatta la multa dopo cinque ore è stato rinnovato a mondolfo il regolamento per i rifiuti e sono previste diverse sanzioni vogliamo responsabilizzare ha detto l'assessore all'ambiente filomena tiritiello vogliamo responsabilizzare gli utenti dando massimo cinque ore di tempo per ritirare i bidoncini e non lasciarli in strada l'intera giornata ebbene quando poi si espongono i bidoncini magari la sera prima in modo che al mattino gli operatori raccolgono i rifiuti appunto li trasportino in discarica lasciare i bidoncini magari ribaltati oppure scoperti non è certo un bel vedere gli utenti sono interessati sono invitati sono obbligati direi di ritirare i bidoncini entro un limite massimo di cinque ore poi ci sono altre novità per quanto riguarda il regolamento per il ritiro dei rifiuti passiamo a senigallia passiamo a senigallia dove si parla del caro vacanze in questo caso localizzato al caro gembori ma quanto mi costi dice il titolo pubblicato sulle corriere adriatico una notte in hotel fino a 1400 euro prezzi alle stelle negli alberghi ma sono tutti sold out oggi la terza giornata di appuntamenti pensate quale forza di attrazione ha assunto questa manifestazione a senigallia che forse è uno dei più grandi eventi che si svolge nel regione Marche 1400 euro nonostante questo prezzo altissimo gli alberghi di senigallia sono tutti pieni ovviamente non tutti praticano questi prezzi ma insomma c'è stato un caro vacanze che sta incidendo molto del budget delle famiglie e pensate quanto incide il caro benzina che nel giro di pochi giorni anzi possiamo dire nel giro di un mese è salito quasi di un euro una cifra molto molto importante per coloro che magari devono andare in vacanza e devono percorrere parecchi chilometri rissa tra ragazzini sul lungomare un altro episodio di cronaca che si è verificato a senigallia ancora una scazzottata tra gruppi di giovani poi sono scappati via è accaduto nello scorso weekend la rissa scoppiata in spiaggia e proseguita in strada mentre sabato notte i toni si sono accesi in via lazio per proseguire poi in via spontini e siamo sempre a senigallia vediamo anche una notizia che riguarda pesaro dove si parla della pista ciclabile di via frati una proroga per i lavori ma la rotatoria purtroppo non ci sta l'assessore belloni concludiamo l'intervento poi valuteremo l'ipotesi di spostare il rondo a nord proprio non ci sta a livello a livello strutturale va bene poi la sicurezza per le biciclette ma sparisce la metà dei parcheggi manumore dei residenti e degli operatori poi il tracciato viale cialdini loreto insomma questo è il problema che viene evidenziato in questo secondo articolo ma noi ci soffermiamo soprattutto sul paglio dei braceri evidenziando la vittoria la seconda vittoria che ha ottenuto villa fastigi che centra il bis la grande finale dei medagliati intitola oggi il corriere adriatico scontro tra i big del paglio tra dei baceri ma cosa vincono? vincono il tifo, le coreografie e la partecipazione tante le fotografie per questa manifestazione di carattere folcloristica una manifestazione che non ha una lunga tradizione ma che si è subito radicata nei giovani pesaresi tifosi, frazioni di gara, sventolio di bandiere, elezioni di miss un certo fervore agonistico ha riempito l'ultima settimana di Pesaro ed è stata la contrada di Villa Fastigi a vincere l'undicesima edizione del paglio vissando il risultato del 2022 e si continuerà a festeggiare per molto tempo appunto per i prossimi giorni voglio dire in quel di Pesaro vediamo anche la pagina di Urbino maxi discarica, non ci fermeremo ancora la ricecia e la ribalta esistono alternative per i rifiuti il presidente di diversamente contro la strategia annunciata da Pierotti per Marche Multiservizi parla Andrea Turcoletti l'associazione diversamente appunto con il suo responsabile annuncia che la battaglia continua contro la discarica dei rifiuti speciali non c'è nulla da festeggiare per quanto riguarda la rinuncia di Marche Multiservizi a realizzare questo nuovo impianto in quel sito non c'è nulla da festeggiare e soprattutto non abbiamo fatto nessun passo avanti perché Pierotti, ovvero il presidente della Multiservizi conferma di voler realizzare l'impianto nella provincia e se non sarà a Riceci sarà da un'altra parte ma anche là probabilmente sorgeranno tante tante proteste ed ora apriamo il resto del Carlino ma stiamo un attimo sulla prima pagina per quanto riguarda un po' la sintesi delle notizie di tutta la regione Marche per quanto riguarda Pesaro vediamo il richiamo al paglio dei Braceri vince fastigi, vince per la seconda volta e poi invece abbiamo due notizie di cronaca anzi una notizia di cronaca e una di cultura violentata e lasciata in A14 una ragazza accusa arrestato un 35enne e poi l'ha scoperta ecco dov'era il lago dipinto da Leonardo nella Gioconda e continuano gli accertamenti effettuati in questo quadro custodito al Louvre di Parigi che ritrae la Gioconda ma non tanto per quanto riguarda il personaggio tanto per quanto riguarda invece il paesaggio retrostante con il ponte, i monti, il fiume e questo paesaggio che si vuole ovviamente riscontrare nella realtà del paesaggio della provincia di Pesaro Urbino a Dancona sale sul Monte Rosa sfida per mia figlia una donna di 45 anni Sara Leoni ha scalato dopo una promessa il Monte Rosa non aveva esperienza di alpinismo ma è arrivata fino in cima lì tetrabandi giovane finisce all'ospedale e caccia agli aggressori è accaduto agli archi in Ancona mentre a Falconara un ubriaco molesta i clienti e una maxirissa allo street food ad Ascoli invece è condannato per gli insulti alla testimone del caso Emanuel in tribunale a Grottamare San Francesco numero uno a Cabaret Amore Mio e poi invece per quanto riguarda il Piceno un po' dappertutto l'abbiamo visto a Senigaglia conto salato aumenta il costo delle vacanze a Macerata protesta dei residenti sporcizia degrado nel palazzo abbandonato a Collevario mentre a Cirgoli cerca di evitare un animale con l'auto invece rimane lui ferito è un sessantenne a causa di un incidente giriamo la pagina e ne vediamo due anzi dedicate al paglio dei Braceri vediamo Villa Fastigi si prende il paglio Tombaccia lotta fino all'ultimo ma c'è anche un problema un ricorso c'è la contrada viola e bianca penalizzata per la falsa partenza loro accusano irregolarità anche da parte della Arzilla ebbene la finale si è svolta al termine di una fase eliminatoria che ha visto concorrere 16 contrade dove al termine della prima batteria è arrivata al traguardo sempre lei la vincitrice del 2023 ovvero Villa Fastigi ma la temperatura si è infuocata durante il secondo girone di questa gara che ha visto sfidarsi in un testa a testa la contrada di Santa Maria dell'Arzilla e Vismara quest'ultima Vismara poi sarà penalizzata dai giudici di gara per un'ipotetica falsa partenza decretando così la contrada avversaria ovvero Santa Maria dell'Arzilla come la seconda finalista e questo ovviamente non è andato giù ai contradaioli i quali hanno protestato vivacemente e noi invece ci agliettiamo lo sguardo con la miss che è stata eletta Martina Martina Simoni che ha sbaragliato tutte le concorrenti la corona della più bella e con questo bel viso noi concludiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani buona giornata grazie a tutti